Benvenuto in News Mix Up, ricordati di iscriverti attivando la campanellina, lascia un bel like e commenta. Il tuo supporto è fondamentale per il nostro canale. Grazie. Dopo diverse esperienze nel mondo radiofonico, Rudy Zerbi ha intrapreso una carriera come talent scout e produttore discografico presso Sony Music. La sua notorietà è cresciuta grazie a interviste ironiche con artisti internazionali e a numerose collaborazioni con la Jalapas Band in ambito radiofonico e televisivo, tra cui spicca Rai Dire Sanremo per la Rai. Recentemente, in un video, Rudy ha voluto lanciare un potente messaggio ai giovani. È fondamentale per un uomo mostrare i propri sentimenti senza vergognarsi. Spesso, i bambini sono educati con l'idea di una mascolinità basata sulla performance, che non permette di esprimere debolezze e fragilità agli altri. Questo approccio non è positivo per lo sviluppo individuale e a lungo andare può essere dannoso. Il messaggio di Rudy Zerbi esalta un nuovo tipo di mascolinità, non mi vergogno più di quello che provo e non lo nascondo. Contrariamente al pregiudizio comune, egli crede che mostrare emozioni non sia segno di debolezza, ma piuttosto una cosa meravigliosa e gli uomini dovrebbero imparare da donne, che hanno una forza incredibile perché mostrano apertamente i propri sentimenti sin dall'inizio. Questo messaggio è di notevole importanza. Piché promuove una visione di mascolinità basata sulla sincerità e sull'accettazione delle proprie emozioni. E tu, cosa ne pensi? Ricorda di visitare e iscriverti al canale attivando la campanellina, lascia un bel like, condividi il video e commenta. Grazie per la visione alla prossima! Ehi, non mancare!